Ci sono ancora di dissapure all'interno della maggioranza anche con l'opposizione, ma si è arrivati a un accordo? Ecco, è una questione su cui non si può non avere un accordo, troveremo certamente una importante soluzione e la mediazione, sia pur nella compattezza della coalizione, sa va a san dire, è ovvio, non ci sono conflitti e non ci sono contrasti. La compattezza, ma la Lega presenta 21 emendamenti al decreto dovuto per i punti? Ma non è la prima volta che ci sono delle diversità di vedute all'interno della maggioranza, abbiamo sempre trovato il modo di trovare una soluzione condivisa e finale. Questo è un governo che credo abbia dato grande prova di saggezza.